che regge no? non riesci a prendere sondi? non riesci a dormire no? sto preoccupato ah si preoccupato e che si preoccupato fammi capire non mi piace la situazione mica? ah non ti piace la situazione mica? e fammi capire che problema c'è sta? hai chiamato informazioni? e la ducca la piglia l'amici amici che l'ha preso ah mi hanno detto che è un coppio amico ci sta raccontando a morte e secondo te che questa fa? l'arma non mi ha piaciuto questo è troppo rischioso ah è troppo rischioso hai già capito? mi stai dicendo quello che hai già fatto e quello che non hai già fatto o no? secondo te vuole questa nonna ferma vero? 20 anni a muor di spalla amici, nemiche, traditori e chi stia risultato? hm? e ci hai lasciato tutto in mano a te Gennari e via da portata a barca e ora mi viene a dire che cosa c'è da fare e non c'è da fare eh ringrazia e dica se io non facevo pazza dovevo carcere stiamo peggio eh ma se io non facevo pazza ma questa mamma era ancora viva e sta dicendo non mi merda o sapevo che non era buono a dove ci hai portato se nascendo io non facevo pazza che la barca poi aveva che acconciava ehm e ma e e e